Non è che una persona continua ad avere risultati in un'area perché è bravo. Una persona non in forma tende a dire, eh vabbè ma lui è in forma, lui è così. No no, lui è così perché ha costantemente obiettivi ogni giorno. Partiamo tutto da non so cosa sono. Ditemi voi se è normale a 32 anni entrare nel network e non avere mai sentito la parola. A scuola siamo andati. Gli sportivi al massimo possono sapere che cos'è un obiettivo, però personalmente io non sapevo che cos'era un obiettivo. Conoscevo la parola ma non sapevo che doveva avere una scadenza, che doveva essere misurabile, che doveva essere ecologico. Cioè quindi non sapevo che cos'era e quindi è un percorso. Da lì sono andato a, ok ho capito, bello, bello, ha senso, belli gli obiettivi. E quindi mi convincevo che sapevo cos'erano, li facevo ma in realtà non li stavo in post perché una caratteristica dell'obiettivo è che sia scritto e non li scrivevo. È quella fase in cui tu sei ancora nella mente che sai cosa sono, ti piacciono, vuoi orientarti ma letteralmente non li stai impostando. Fase 3, sai cosa sono, li imposti ma poi non segui la strategia. Ti imponi di perdere 10 chili in 90 giorni ma poi non segui il piano. Quindi molli il tuo obiettivo. Questa è la fase 3 e passiamo in tutte le fasi, in qualsiasi area della nostra vita. Dopo inizi a dare qualche priorità alla tua vita e inizi in quella specifica area a seguire la strategia per raggiungere l'obiettivo. Quindi ad avere l'obiettivo e a fare quello che c'è da fare. Ad esempio perdere 10 chili in 90 giorni, la strategia è 2 frullati al giorno, andare in palestra tre volte a settimana e fare un terzo pasto normale, lo fai. Il quarto step è quando tu inizi a farlo e poi dopo arrivi alla fase 5 che inizi a vedere i risultati, ti piaci, ti diverti e poi dopo diventano la tua vita. Ultima fase, cioè vivi per raggiungerli. In ogni area della tua vita sai cosa vuoi, hai una strategia per raggiungerlo e la segui e non fai altro e quindi valorizzi il tuo tempo al massimo. La gestione del tempo non esiste, esiste il valore che dai al tempo, quanto vale per te quel tempo e quando tu arrivi a far girare la tua vita in tutte le aree che ha, basata sugli obiettivi che sono, cioè cosa voglio, invece di girarmi in tondo e perdere tempo, però è un percorso ed è importantissimo che ognuno di voi inizi a entrare nel mood di raggiungitore di obiettivi sia in vai che fuori da vai. Perché conviene avere gli obiettivi ben delineati e avere una vita basata sugli obiettivi? Tre motivazioni, la prima motivazione è perché chi è che ha notato che quando tu sei concentrato e hai le idee chiare su una cosa, a un certo punto qualcosa di inspiegabile si mette d'accordo e non dico che ti spinge ma si aggiustano le cose affinché voi lì ci arriviate davvero. È vero o no? Noi siamo energia, siamo frequenze e se noi siamo su quella frequenza lì, di quella stessa cosa non possiamo non ottenere quella cosa. Se queste sono le frequenze che dice Einstein e noi siamo una radio, i nostri pensieri sono frequenze, quello che succede è che quando uno entra in vai ha questo tipo di frequenza e poi noi gli facciamo vedere che può diventare ambassador che chiaramente è un risultato lungo la sua stessa frequenza o superiore? Superiore, è ovvio. Vi faccio il mio esempio. Facchino penso così, l'ambassador è... lo disegno qua per comodità. L'ambassador è qua, cioè è un risultato che si basa su pensieri diversi. Devi diventare un altro per fare l'ambassador, non puoi rimanere il facchino. Siete d'accordo? Perfetto. E quindi tu vedi l'obiettivo qua su e l'unica cosa che ti può far passare da qua a qua è prendere una decisione e iniziare a pensare, devi pensare da ambassador prima di avere la giacca. La sfida grande è capire come se io continuo a prendere decisioni da questo livello di pensiero dal quale sono partito otterrò sempre risultati sulla stessa frequenza di quel livello di pensiero lì. Se una persona davvero dentro vuole qualcosa e sintonizzato su quella cosa, diciamo che la strada un po' più spianata la trova. Il secondo motivo è perché è proprio logico. Se vuoi battere il nemico distrailo e lui ti batterà non se sarà più forte, se ti distrarrà. Le distrazioni sono il nemico numero uno di oggi. Di vent'anni fa no, di oggi sì. Perché se la regola dell'university è tenere il telefono giù, significa che qualcosa potrebbe distrarvi dentro quel telefono. Siamo nel mondo delle distrazioni e ci sono distrazioni a comando. Netflix, flatflix, flatflix, flutflix, 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 pop up, cium, 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 cium. C'è quello che vuoi lì e quindi oggi in questa era qua vince il più concentrato perché non metterò tempo e risorse sulle altre cose, sulle mille distrazioni che ci sono. Questo è il mio screenshot, quello dalla vostra sinistra del computer da tre anni e quello alla vostra destra da tre mesi sul mio cellulare perché il focus nasce dalla vista. Non ci possiamo concentrare su qualcosa che non vediamo. È impossibile. O ce l'hai davanti o te lo devono far vedere. È per quello che i visionari sono dei grandi leader perché costruiscono visioni e fanno vedere nel futuro cose che persone prima da sole non riuscivano a vedere e che adesso grazie alla visione del leader possono vedere, ci si possono focalizzare. Quindi il focus nasce dalla vista ed è importante i miei obiettivi, averli ad esempio qua. È gratis, tre secondi, impossibile per la vostra mente inconscia che non giudica, non vederlo ogni quante volte, ogni quante volte al giorno, ve lo giuro, è difficile non stare concentrato sulla casa di Nick e sul mio fisico. E quindi fatelo. Qual è il vostro obiettivo? Mettetevelo in digitale. Se tu sei in una fase degli obiettivi che non ti piace, ad esempio la 2, sai cosa sono ma non li fai, forzati nel rimanerci concentrato così. Quello è un forzare, avere un sistema che ti eviti di essere pigro o di essere spocalizzato sui propri obiettivi. Terzo motivo è chimica. Ne abbiamo parlato prima, qua ci sarebbe da parlare tantissimo. Chi è che ha letto il libro di Simon Sinek, I leader mangiano per ultimi? Bellissimo, bellissimo, fantastico. Parla proprio di come il nostro corpo reagisce e si comporta. Prima ho detto stamattina, i pensieri sono il linguaggio della mente. Gli ormoni, le sostanze chimiche, le sensazioni sono il linguaggio del bene. Bene. Se il mio corpo prova una sensazione non si può comportare in maniera diversa. È impossibile. È impossibile. E quindi cosa significa? Che raggiungere obiettivi rilascia dopamina, che è l'ormone del piacere. Anche solo pensare al proprio obiettivo rilascia dopamina. Perché se tu ti senti bene, dopo come ti comporti? Sarai più motivato, sarai più ispirato. La galera, la prigione della maggior parte di persone è che si sveglia, pensa alle solite cose, prova le solite cose, e di conseguenza si comporta nel solito modo. Ed è una routine, un loop che non riescono a fermare. È impossibile. È impossibile perché il corpo funziona in questo modo qua. Avere obiettivi è la base per essere motivato, è la base per ispirare gli altri. Funzioniamo chimicamente così e questo funziona da una vita. Diventa anche un nemico perché è così tanto bello questo weekend che mi appaga già tantissimo. No, domani fai il party perché spendi delle parole col tuo team, vuoi essere seguito col tuo team e quindi fai anche quello che va fatto. Non solo impari, stai bene qui con noi. No, perché devi essere l'esempio se vuoi avere seguito, se vuoi permetterti di parlare a qualcuno e dirgli cosa fare. Ma noi abbiamo in mano la vita della gente. Quando sento dire, ah, entra quello nuovo, entra quello nuovo. Eh, ho capito, ma i tre area director che sono lì da un anno, poverini, cosa? Qualsiasi corso possiamo fare rende felice e soddisfatte le persone. Ma questo è diverso. È per quello che ieri vi abbiamo fatto fare le telefonate. È per quello che ieri vi abbiamo fatto fare la pratica. È per quello che allo step 1 c'è la pratica, allo step 3 ci sarà la pratica. Perché la formula reale per guidare gli altri è conosco e poi applico. Qua la modalità 2, che è quella del manager, è lì dietro l'angolo. Se non ci siete già, ci arriverete. È molto più facile dire agli altri quello che devono fare piuttosto che farlo. Ma il leader vero è colui che ha la responsabilità e il coraggio di prima fare quello che pretende dagli altri. Volete sapere che cos'altro sviluppa dopamina? Perché dopo un po' diventa dipendenza. Può diventare un nemico. Cioè se tu a un certo punto raggiungi, raggiungi, perché ti fa stare così bene fare quel rank, però non ti godi il percorso, a un certo punto vai fuori di testa. Diventi matto, vuoi solo le cose, non ti godi il percorso, non potrai vibrare bene, non potrai creare community, cioè non potrai fare il lavoro in maniera significativa. Quindi attenzione, ci deve essere, dovete raggiungere gli obiettivi, non focalizzatevi però solo su quello, riempitevi il cuore con qualcosa di più importante di andarvi a prendere attraverso gli obiettivi. Un po' di antagonisti per la dopamina, rispetto a chi è focalizzato sugli obiettivi e li raggiunge. Sapete perché la maggior parte degli alcolizzati nasce in età 14-16 anni? Perché bere alcol sviluppa dopamina, fumare sviluppa dopamina, scrollare i social media sviluppa dopamina e fa sentire bene. E quindi è per quello che le persone ne diventano dipendenti. Perché fa sentire bene e insegna al corpo di rifarlo. Ad esempio, un'altra cosa che fa sviluppare dopamina è fare all'amore. Sapete perché fa sviluppare dopamina? Perché è una cosa bella ed è giusta che vada rifatta. Per riprodurci. Sì, certo, è così. È così. Siamo macchine, siamo costruiti. Siamo costruiti perfettamente per funzionare. Ma è meglio sviluppare dopamina per andarsi a prendere la propria vita? Quattro cazzate là. Videogame. 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 Date l'esempio ai vostri figli che il modo per sviluppare dopamina è di andarsi a prendere quello che vogliono. Dentro vai e fuori da vai. Ed è un percorso. Non diventate subito ossessionati dagli obiettivi ma è un percorso anche perché se non la sviluppano così o voi non la sviluppate così la sviluppate cos'ha? Ogni volta che abbiamo un vizio e che abbiamo uno sfogo è perché c'è una mancanza da qualche altra parte. Sai perché le persone diventano ossessionate dal fare la spesa? Tutti in casa abbiamo qualcuno che è ossessionato a fare la spesa a tagliare l'erba a lavare la macchina a pulire a mettere a posto. L'ossessione di quelle cose nasce dal fatto che quando uno raggiunge qualcosa sviluppa dopo e fa stare bene. Ah! Ho tagliato l'erba! Sì! E quella roba lì la insegna al tuo corpo che se la ricorda e però c'è un problemino che tu investi che cosa per farlo? Il tuo? Tempo! E le settimane diventano mesi i mesi diventano anni gli anni diventano decadi e i decadi diventano la tua vita e tu a un certo punto di quella routine ci diventi che cosa? C'è scritto lì? Schiavo! E non sai neanche perché. La cosa più importante è insegnare al proprio corpo come comportarsi bene perché se non lo fate attraverso il raggiungimento degli obiettivi lo farete attraverso il raggiungimento di qualcos'altro. Il primo step per fare gli obiettivi è perché qualcosa di inspiegabile accade. Il secondo motivo è perché se sto focalizzato sugli obiettivi evito tutte le distra? E la terza è perché fa sentire bene. Se volete motivare il vostro team non cercate di manipolarli o ispirarli o cercare di motivarli. Fate una sessione di due o tre persone mettete un po' di musica e ditele che obiettivi hai? Che obiettivi hai? Vedrete l'energia andare su. Se morirai con una lista di cose da fare avrai fallito. Le persone che nella vita vincono sono le persone che hanno una lista di cose vissute e quella lista di cose vissute non deve essere la lista della spesa. Non deve essere la lista di tagliare l'erba di lavare la macchina. Poi siamo nell'era della tecnologia dove tra poco ci saranno dei dispositivi che potranno farlo per noi. Quella to-do list lì deve essere cambiata in dream list in goal list nella lista dei sogni da andarsi a prendere nella lista degli obiettivi da andarsi a prendere. È meglio diventare dipendenti nel raggiungimento di obiettivi concreti rispetto a diventare dipendenti nella lista delle cose da fare. Se tu raggiungi 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 ma quel raggiungimento quell'avanzare quel passo dopo passo non ti porta dove vuoi andare il raggiungimento dopo un po' non basta più. Ed è lì che viene la prossima parte che è la parte del sogno.